Allora abbiamo fatto un giro della Madonna, te sei all'ombra Katia, vieni più qua, un giro della Madonna si è trovato dei bei punti, dei bellissimi dormietti, qualcuno veramente meraviglioso, belli asciutti, comunque siamo partiti dalle piramidi, dalle piramidi si è fatta la pista di fondo fino alla fontina, poi si è girato giù verso il basso dei Corvi, siamo andati a finire la strada dei Bobi, tutta la stricata, un bosco su, un bosco giù e poi da lì siamo andati a finire alla fontina della bandiera, dalla bandiera siamo riscesi, via traversa, siamo andati a finire di nuovo alla secchia, al cancellino dove avevo lasciato la macchina, ditemi un po' voi, eravamo io, la Katia, e il suo marito, il suo marito che sfotti perché mentre Katia si ragionava, lui cecava funghi e le trovava, poi all'ultimo ho detto vieni un po' a vedere dove ti porto ora io, vieni un po' a vedere che covata che c'è qui, c'era o no la covata? Sì c'era, era quasi un chilo di covata, la più bella covata, ok via dai.